Stiamo attraversando questo periodo un po' critico e tutti gli aumenti che ci stanno, troppa concorrenza pure tra noi e si vende poco, la gente pochi soldi, oggi come oggi viviamo proprio per campare al massimo senza scrivoli. Quindi l'estate è stata difficoltosa? Difficoltosa sì, troppo aumenti di bollette e letone che non comprano poche niente, il necessario comprano e questo è tutto.